Parliamo con Enzio Morosini, il vicepresidente dell'Alzano, allora dopo quattro turni tornare alla vittoria nel derby fa particolarmente piacere. Sì, diciamo che sicuramente è stata una partita abbastanza positiva, nel senso che sia noi che loro avevamo delle assenze abbastanza importanti, comunque è uscita una buona partita, noi siamo riusciti a fare gol subito e poi nel primo tempo abbiamo avuto anche qualche occasione per arrotondare il punteggio, non l'abbiamo fatto, nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, però alla lunga penso che il risultato possa essere considerato giusto. Questa vittoria vi rilancia verso le parti alti della classifica? Sì, adesso l'importante era invertire il trend che abbiamo fatto con l'ultima di campionato e la prima di ritorno, per cui questa vittoria sicuramente è un viatico importante che ci permette di guardare al futuro con più tranquillità.